buongiorno volevo farvi vedere i gioielli che mi sono comprata a cancun c'erano un sacco di gioielli in argento soprattutto con tantissimi tipi di pietra io ho scelto questi con questa bellissima pietra in turchese degli orecchini e un anello in argento 925 e poi mi sono comprata questi orecchini fatti a mano e anche questo bracciale orecchini simili ho comprato anche per una ragazza come regalo c'erano tantissimi di questo tipo anche molto più complessi sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla moltitudine di gioielli che si potevano acquistare in messico questo è tutto assi se volete sapere ho dovuto trattare perché è meglio trattare se noi prezzi sono abbastanza alti e sono in dollari americani segreto e trattare sempre soprattutto per quelli in argento questi due orecchini e braccialetto li ho presi da una signora che vendeva per strada il prezzo era buono nel senso le aveva una copertina ed era messa vicino al marciapiede e comunque mi piace comprare da queste persone semplici grazie ciao